ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video altra puntatella nella quale mi scuso per la mia voce per la mia raucedine che purtroppo accompagna questo inizio di stagione così controverso no un po di freddo un po di caldo quindi si patisce e io non essendo defero come i nostri amici orologi patisco loro non patiscono loro vengono costruiti per andare sott'acqua per resistere al vento alle intemperie al calore all'umidità e a tutto ciò che concerne l'ambiente esterno loro sono proprio per stare al nostro polso veramente veramente fieri e orgogliosi ora noi gli daremo un'occhiatella tutti insieme ci facciamo due commenti gli diamo che un votino e poi così alla fine tiriamo le conclusioni e vediamo un po se vi siete salvati o meno dai guardiamo un attimino prima di guardarli però vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo bellissimo orient mato 41 mm di diametro cassa almeno mi sembra non mi ricordo più quadrante blu ghiera nera con i primi 15 minuti blu realizzato per il ventesimo anniversario del modello maco di orient all'orologio al quale io ho messo questo simpatico centurino nato blu che para ponzi ponzi fai il suo sta proprio bene ed estate mi fa godere adesso passiamo al primo video con la barra spaziatrice che lì ferma solitaria e necessita di essere smossa fuoco ciao davide sono giacomo di rimini ti faccio tantissimi complimenti per il tuo canale e oggi faccio vedere la mia collezione di orologi e spero che tu possa pubblicarla va bene partiamo con un citizen suiosa ho scelto la colorazione verde con questo quadrante soleil ci sta è un orologino che secondo me per il prezzo a cui lo vendono è davvero valido a vetro zaffero sia sull'anteriore che sul posteriore un movimento comunque affidabile e anche una buona struttura generale è molto carino bravo orologio da portare un po tutti i giorni certo passo avanti su questo ti faccio vedere un squale uno squale il 15 21 molto molto bello ha questo quadrante blu che tende al nero verso l'esterno e adesso a catalogo non c'è neanche più questa colorazione ma c'è quello tutto blu o tutto nero ha gli indici su questo colore giallino che ricordano un pochino il vintage la ghiera girevole a 120 scatti anche con un dot fisico e non disegnato qua a ore 12 se ha il datario ed è un 50 atmosfere quindi è un vero diver questo qua sul fondo abbiamo il suo logo squale con lo squalo non esce con questo cinturino che è un aftermarket ma esce con un tropic è veramente un bel orologio nonostante sia comunque un 42 mm ma riesce a stare bene anche su polsi più piccolini perché comunque ha delle ansette qua molto molto poco sporgenti poco sporgenti andiamo avanti da vedere un iconeutra iconeutra è giocata uno si pronuncia questo è il big moon infatti possiamo notare questa grande luna posizionata lì a ore 6 quindi è un fasi lunari particolare molto bello è che abbiamo sia l'indicazione scritta del quarto se luna nuova o luna crescente o carante oppure anche il disegno della luna che ci fa vedere bene in quale fase lunare siamo ok è un orologio molto preciso quindi sono stato abbastanza fortunato questo è un 10 bar 10 atmosfere 100 metri di profondità ed è tutto nero anche questo qui non usciva con questo cinturino che ho cambiato aftermarket ma usciva con un cinturino in tessuto al vetro antiriflesso anche se da questo video non sembrerebbe molto carino molto carino faccio vedere poi un orologio di cui tu non sarai molto contento è il venezianico il ultra black questo lo chiamano giusto per questa particolarità di avere questo quadrante con questa vernice nera che assorbe quasi il cento per cento della luce quindi da un effetto di profondità profondità l'ho preso dai solo per averne in collezione uno non è che sia un grandissimo orologio in quanto a caratteristiche anche un cinturino in pelle abbastanza spesso e abbastanza rigido però è carino e vi faccio vedere questo bellissimo questo è christopher ward questo è il c63 seelander è un gmt infatti abbiamo la lancetta del secondo fuso orario e purtroppo molti dicono che assomigli tanto all'explorer di rolex è chiaro che ne riprende qualche caratteristica come la ghiera anche se molto più sottile rispetto all'explorer e la lancetta arancione ma a parte questi due caratteristiche secondo me è un orologio totalmente diverso ha una cassa una carour secondo me fantastica un profilo stupendo monta movimento sellita sv200 che è precisissimo si a parte che non può essere sellita sv200 ma sarà sellita sv numero 330 il gmt non è il 200 va bene comunque si la cassa è completamente differente cioè da quella di rolex così come le spallette così va cioè è il sapore generale con quella ghiera così in acciaio con i numeri incisi che magari ricorda un pochino ma per l'amore del cielo ci sono un sacco di altri i sei ci sono anche fatti così altri 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 orologi non è che certo magari se invece di mettere il freccione arancione lo avessero messo fatto diversamente di altro colore ci sarebbero scostati un pochino di più no a volte basta poco per dire oh voglio intraprendere quella strada spostarmi no invece se lì ti adagi con l'arancioncino arancioncino così arancioncino abbiamo il logo del tridente di christopher ward sulla lancetta dei secondi e poi il logo della bandiera invece a ore 12 abbiamo il logo anche qua di fianco e un bracciale secondo me molto molto particolare veramente bello il logo è scritto anche sulla chiusura che ti faccio vedere christopher ward un po' graffiata perché è un orologio che uso veramente tantissimo per lui l'ho acquistato anche con due cinturini di ricambio uno è questo qua in camoscio tipo color cammello e anche il suo cammello che è molto carino ma adesso non ho qua da fartelo vedere questo è un orologio che mi piace veramente tantissimo e secondo me vale di più di quello che costa per caratteristiche andiamo avanti uno degli ultimi arrivati abbiamo già visto prima lo sui osa quello verde questo mi è arrivato da pochissimo nuovo quadrante quindi nuovo disegno del quadrante secondi a ore 6 e avendo ormai due sui osa credo che venderò quell'altro perché mi piace molto di più questo qua l'ho già fatto presente in un altro video se guardate il calibro dietro serie 8000 ma 8300 qualcosa rispetto a quello dello sui osa è molto più rifinito ecco come calibro molto più rifinito lo vedete lì c'è anche il perlage dura a farfalla chiamiamola così quell'altro invece alla clasp è molto molto carino stesse caratteristiche dell'altro più o meno ma secondo me con delle migliorie decisamente decisamente apprezzabili bravo avanti gli ultimi due faccio vedere il pezzone della mia collezione un bel topo è l'ultima referenza quindi è il 3861 il carico quassiale ho scelto io quello col vetro bombato in esalite esalite è vero che bisogna fare un pochino più attenzione infatti il mio facendo un pochino caso al vetro si vede qualche graffettino però ho voluto cercare di rimanere fedele a quello che era l'originale non ha il fondello a vista questo qua ma è chiuso il bracciale secondo me è la miglioria più eccezionale che c'è in questo nuovo speedmaster è molto più rastremato molto più bella la chiusura e poi beh il calibro il coassiale è straordinario questo è il mio top la chiusura è quella ingegnerizzata credo di averli fatti vedere tutti poi un Nomos questo è l'Orion bellissimo secondo me questo è un orologio davvero bello è un dress watch abbiamo gli indici dorati i secondi ore 6 e abbiamo le lancette minuti e ore che sono forgiate infatti questa colorazione blu viene presa riscaldando il metallo portandolo a una certa temperatura e lo fa diventare di questo colore quindi non è assolutamente verniciato un orologio leggerissimo veramente molto sottile ha queste spallette ansette decisamente allungate rispetto all'orologio fanno un po' passare la luce fra il cinturino e l'orologio è quello che mi piace ma secondo me è un po' una caratteristica di Nomos montiamo qui un calibro di manifattura è un 17 rubini molto molto bello veramente un bello orologino abbiamo un cinturino in pelle morbidissima e anche questo da mettere in tutte le occasioni in cui si vuole avere si vuole dare un po' di eleganza al proprio stile e me ne mancano un paio che sono un Timex che ho preso da poco perché usando la motocicletta con lo Speedmaster mi è capitato che si rompesse il pistoncino dello start del cronometro praticamente l'ho portato in assistenza me l'hanno sistemato spiegandovi che io uso spesso la motocicletta l'Harley sappiamo che ha delle vibrazioni pazzesche e quindi mi si era rotto ho comprato un Timex che però non ho qui oggi e l'ultimo che mi sta arrivando è un SSK di Seiko ciao Davide ti faccio un bacio un bacio al lupo per il tuo canale spero che pubblicherai il mio video ciao un abbraccio ciao 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 ma è strano che si sia rotto il pulsante a causa delle vibrazioni della moto io non lo so ci sta che fosse difettoso già il pulsante e ti si sarebbe rotto anche se tu fossi andato in bicicletta o a piedi la mia supposizione insomma il pulsante è come si fa a rompere io tra l'altro il mio Speedmaster lo uso quando vado in palestra regolarmente quindi tre volte alla settimana per prendere i tempi quindi start stop reset start stop reset un sacco di volte gli sto facendo proprio un test intensivo diciamo e funziona veramente bene cioè risponde bene poi per il resto tutti i bellissimi orologi il Nomos con il cabello di manifattura tanta roba anche lui quindi nel complesso direi un bel sette e mezzo alla collezione un bel sette e mezzo perché sono tutti orologi degni di di essere posseduti in una collezione non c'è niente di ciofechi a parte quel venezianico lì ultra black che proprio ci sta antipatica l'azienda non è l'orologio in sé che magari è fatto anche bene proprio l'azienda che non ci piace capito poi per il resto tutti quindi siccome il voto non viene dato in base a quanto hai speso per fare la collezione ma a come ti sei mosso con quei soldi che hai per farla che è diverso e un bel sette e mezzo te lo dai volentieri sette e mezzo ciao Davide ciao ciao a tutti i ragazzi del canale i ragazzi del canale telegram qui ci abbiamo un appassionato di hi-fi di alto ascolto perché ci abbiamo un giradischi di quelli tradizionali un po' come l'oroggeria meccanica e poi i dischi i dischi i vinili i cosiddetti i vinili con David Bowie The Clash Deep Purple e The Rolling Stones ecco sì musica un pochino rock classico diciamo di questi qua per me si salva solamente i Deep Purple in certi frangenti poi per il resto è musica un po' bellissimi tutti bellissimi per l'amore del cielo però un po' stantia come genere di musica per me un po' troppo dietro nel tempo io sono Antonio da Messina e praticamente qualche settimana fa ho mandato un altro video in cui vi spiegavo che alla tenera età di 40 anni mi sono appassionato agli orologi prima non ne avevo neanche uno quasi non uno regalato da mia madre prima che se ne andasse quindi ok è un tribe però dico ha un chiaro valore affettivo eh certo io sono quello che si stava per far fregare dal negozio facendosi dare un Jacques Le Mans a 700 euro eh affarone quello che non era né automatico né né quarzo libromatica allora vi presento la mia collezione in ordine di arrivo Hamilton Hamilton cacchi fiato mamma mia più lo guardo questo orologio e più mi innamoro è bello sì davvero bello però calma cassa in titanio vetro al quarzo automatico bla 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 vetro al quarzo leggerissimo neanche si sente però porca miseria quanto è bello vetro al quarzo e poi ho preso questo tisso oh si sta mamma mia bellissimo anche bellissimo tutto bello questo quando lo metti al polso tanta figura e ricevo un sacco di complimenti tanta figura sto riuscendo a metterli a fuoco dopo di questi ho comprato un orologio che vorrei togliermi al più presto perché niente non riesco lo uso al male quello che non mi piace la cassa troppo anzi il quadrante troppo incasinato è suo bello dai questo qua deve essere un diver così bello imponente con forma con la cassa così a cuscino a tartal il quadrante bello pieno è così che deve essere è un diver un orologio sportivo non lo devi paragonare con il con un cacifield per esempio è ben più presente del sister di prima sono differenti a volte uno ha voglia di indossare una cosa a volte uno ha voglia di indossare qualcos'altro e niente non riesco a vedere o comunque non riesco a mettermi questo modello tartal quindi cercherò di toglierlo e di rivenderlo cercando di non perderci troppi soldi poi penultimo acquisto quest'altro casio un secco un casino un casino automatico questa qua è un'edizione speciale street fighter non so se si riesce a vedere per anche i giorni in giapponese questa scritta in giapponese la ghiera un po' effetto rovinato sto cercando di decidere se cambiargli il cinturino lasciargli questo e sotto nel fondello che è a vista c'è l'icona cina di street fighter molto carino molto bello molto bello ultimo acquisto il più importante cos'è cos'è forte che sta arrivando il botto orologio del giorno orient 3 in questa versione qui devo dire che wow mi piace mi piace molto per quanto costa bene la mia cosa fa un sacco di rumori di ferraglia però molto bello molto molto bello bravo detto questo ti ringrazio spero che pubblicherai questo video e pubblichiamo dimmi cosa ne pensi delle mie scelte in dai in un mesetto di collezione ora mi devo fermare perché purtroppo economicamente non posso sto sballando voglio il voglio il Carrera cronograph quello con il quadrante nero costa sui 6.000 quindi penso che dovrò aspettare un bel po' di mesi raccogliere i soldi e poi prendere quello e niente grazie fammi sapere ti ringrazio tanto perché i tuoi video sono di compagnia mi piace la tua simpatica antipatia meno male rende molto piacevoli tutti i tuoi video e niente ciao alla prossima alla prossima ciao 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 e niente il Carrera lì 6.000 euro è una bella spesina no visto che hai iniziato da poco ti capisco che è una bella spesa ti auguro di arrivarci al più presto perché sicuramente è un bello orologio per il resto hai 4 orologi tralasciamo il primo lì così nel tribe quello lo tralasciamo perché è uno scherzo della natura c'hai l'Hamilton Cackefield il Tissot Seastar il Seiko Turtle e l'Orient Marco comunque questo guarda un bel set di voto non te lo toglie nessuno perché considerando anche il poco tempo da cui ti sei appassionato le scelte che hai fatto secondo me poiché possono piacere o meno ognuno ai suoi gusti però nessuno ti può dire no quell'orologio lì non è valido no quell'altro no no questo qua no tutti orologi validi Orient Seiko Hamilton e Tissot hai preso i due giapponesi più rappresentativi come marchi e i due svizzeri entry level come marchi perfetto per ora per ora sei perfetto guardiamo poi il Carrera lì che ti farà sballare aspettiamo il Carrera ciao Davide ciao sono Timothy da Roma sono l'ennesimo ragazzo a cui hai fatto scoprire questa passione nascosta per gli orologi grande ci tenevo a mostrarti appunto la mia piccola collezione molto molesta che ho iniziato da pochissimo e vai facci la vedere ora partiamo da questo Seiko 5 Sport che in realtà è l'unico acquisto un po' datato perché l'ho preso due anni fa è stato il mio primo orologio automatico quindi ci sono molto affezionato e devo dire che come prima scelta non sono andato nemmeno troppo male dai perfetto questo movimento col suo movimento 4R36 che devo dire che tiene il tempo anche piuttosto bene perché io ho calcolato uno scarto giornaliero di più 5 barra più 6 secondi e quindi più 5 più 6 secondi è perfetto veramente mettere la firma per qualsiasi orologio mi andasse più 5 più 6 secondi al giorno va benissimo è l'ottima scelta sì il Seiko 5 Sports con la cassa slim così come questo ma anche scelto un bel colore sobrio a differenza di tanti altri che magari vanno su qualcosa di più vistoso perfetto come primo orologio ha la corona a pressione e tanti si lamentano del fatto che ha pressione ma ragazzi sbattiamoci negli scatoloni delle corona a pressione perché se ti dichiara Seiko che hai 100 metri di impermeabilità 100 metri lo è la corona è ben protetta dalle spallette è anche posta lì a ore 5 tra ore 4 e ore 5 che è abbastanza protetta quindi perfetto orologio per iniziare devo dire per la fascia di prezzo ottimo ottimo passiamo poi a un altro Seiko 5 carino che questo con il suo movimento 7s 26 diametro cassa 37 mm col suo quadrante bianco devo dire che mi piace molto certo molto molto bello bello eccolo qui passiamo a un altro diver questo è un best buy è l'Orient Kamasu eccolo qui colorazione Pepsi Orient Kamasu versione 2023 sto qua non è quello il primo Kamasu che è uscito secondo me il primo Kamasu che è uscito è quello un pochino più particolare quello con gli indici a dente di squalo per intenderci questo qua è quello che è uscito nel 2023 con gli indici a bicchierino tondi è un po' modernizzato bello anche questo a cui ho montato un bracciale aftermarket come gran parte di noi e cosa dire niente bellissimo orologio anche questo indossato molto spesso mi piace molto molto mi dà molte soddisfazioni bravo così ti voglio poi passiamo a questo recentissimo acquisto è un po' che lo volevo ed è un altro Orient l'Orient bambino da 38 mm con questo quadrante bianco questo l'ho acquistato da un ragazzo praticamente nuovo è ancora la pellicola sul retro della cassa quindi è totalmente nuovo ho avuto la fortuna di prenderlo a metà prezzo appunto prezzo di listino e quindi praticamente l'ho preso nuovo a metà dei soldi è fatto bene ancora devo indossarlo mi piace molto è un orologio che volevo da un po' mi è andata piuttosto bene poi passiamo ancora a un altro diver e abbiamo questo Citizen Pro Master Marine col suo quadrante Degrade Degrade eccolo qui ci piace giallo così anche questo senape mi sono visto mille recensioni lo prendo non lo prendo alla fine l'ho preso e sono molto soddisfatto dell'acquisto veramente un bello orologio naturalmente non tiene il tempo in modo precisissimo però parliamo della Miota serie 8000 e poi comunque per la fascia di prezzo sempre entry level parliamo di uno scarto più 10 più 11 secondi al giorno naturalmente non mi vado a lamentare di questo è solo una una piccola descrizione questo mi piace veramente molto si fa notare come orologio con questo suo quadrante sembra anche di fascia di prezzo molto superiore molto molto bello molto molto bello come ultimo arrivato un orologio che volevo da quando è uscito ho rimandato più volte è questo qui TISO PRX POWERMATIC 80 bravo con il suo quadrante blu bellissimo come orologio a me piace tantissimo anche a me questo è il 40 mm io ho un polso da 18 e mezzo quindi è perfetto e nulla Davide questa è la mia piccola collezione eccoli lì oh perfetto tra poco sarà il mio compleanno vorrei fare un piccolo upgrade sarà indeciso tra un Baltic Aquascape e un Doxa Sub 200 in realtà inizialmente volevo prendere un Glyssin Combat Sub ma avendo già diversi diver e poi comunque tutti entry level sarebbe uno svizzero comunque sì ho il TISO PRX però comunque un altro entry level diver magari eviterei non so cosa mi consiglieresti un Baltic Aquascape o un Doxa Sub 200 grazie dello spazio che mi hai dedicato un saluto a tutti gli amici del canale e love 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 allora la tua collezione partiamo subito col voto si merita un bel 8 8 perché hai 6 orologi che per bellezza per qualità e per marchi sono fanno parte coprono tutto l'entry level tutto il mercato entry level possibile dall'orologio abbracciare integrato al dress watch l'oriente bambino ai diver all'orologio un pochino più legantino sportivo come il Seco 5 Seco Orient Citizen Tissou 8 per me 8 ripeto i voti non dipendono da quanto hai speso per comprare un orologio non è che se hai speso 100.000 euro prendi 10 e se hai speso 10.000 euro prendi 1 no è proporzionato a quello che hai scelto con quel budget ora poi chiedi il Baltic Aquascaf o il Doxa Sub 200 io dico Doxa Sub 200 sia per orologio che per marchio preferisco proprio il Sub 200 come stile come iconico dai lo vedi e dici quello lì è lui è un Doxa quello lì e poi il te dici Glissin EntriLevel si va bene Glissin EntriLevel costa i suoi bei 600 eurini adesso il Combat Sub lo scarterei totalmente perché insomma c'è il suo bel Selite SW 200 dietro è fatto bene diciamo che è un passetto sopra il Citizen Pro Master Marine ad esempio quindi non lo scarterei a priori però se riesci a prendere il Doxa Sub 200 io prenderei il Doxa Sub 200 lo preferisco anche a Glissin Combat Sub tra l'altro c'è anche il Doxa Sub 200 T volendo che è da 39 con una cassa diversa differente valuta anche quello lì che non è male è uscito da poco e non è male se ci riesci ad arrivare col budget sicuramente fai un bel saltino comunque tutti i orologi EntriLevel le tue che io vorrei avere nella mia collezione quelli lì li vorrei avere nel senso non ce li ho perché se ho 30 orologi da un certo punto il Mako ce l'ho però per esempio ho bisogno del Mako oppure posso usare l'Omega Seamaster 300 certo c'è l'Omega Seamaster 300 però indosso anche l'Orient Mako volentieri come il Citizen Pro Master Marine lo indosserei volentieri e come tutti gli altri che hai come il Kamasu quello che ti pare mi piacciono cioè a me piacciono proprio questi orologi qua a me piacciono questi orologi qua che sono quelli da 100, 200, 400 euro fino a 10.000 euro ecco meno anche perché le mie possibilità non ci arrivano ma non aspiro nemmeno tanto ad avere gli orologi quelli che costano tantissimo che sono quelli che vanno di moda tra i reseller proprio a zero anzi mi fa piacere sono contento di stare di riuscire a stare lontano da quel mercato lì capito perché vedo vedo di quelle magagne di quelle cose ultimamente hanno arrestato un noto reseller di Milano che faceva che vendeva orologi mamma mia in maniera oscura quindi più si sta lontano da quella da quella da quella fascia di roba lì è meglio a noi ci piacciono gli orologi veri quelli che possiamo indossare tutti i giorni e che ci danno soddisfazione adesso ragazzi basta perché devo andare a vedere i gattini su Instagram quello lì è un passatempo che non mi toglie nessuno e che devo portare avanti guardare i gattini su Instagram mi rilassano poi c'è anche questa voce qua quindi forse è venuto un video un po' corto ragazzi abbiate pazienza ma ci vuole devo attendere vi ringrazio per essere arrivati fino a qua vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love grazie a tutti Grazie a tutti.